Nel 2019 ho deciso di trasferirmi a Londra, mi sono lasciata alle spalle la mia famiglia, i miei amici e la relazione che fino ad allora era stata la più importante della mia vita. Oggi vi voglio parlare di quanto sia stato difficile vivere all'estero e analizzare quali sono state le sfide che ho affrontato per capire se è balsa veramente la pena stare lontano da casa tutti questi anni. Per darvi un po' di contesto, Londra non è stata la mia unica esperienza di vita all'estero. Quando avevo 21 anni mi sono trasferito da Roma a Berlino per fare l'Erasmus. Si tratta di fare l'università in un paese straniero. L'Erasmus è stata un'esperienza fantastica che però ha principalmente solo lati positivi. Si conoscono tantissime persone che vogliono divertirsi, fanno tante feste e si viaggia tantissimo. Quindi diciamo che l'Erasmus non conta come vera e propria esperienza di vita all'estero anche se è formativa da mille altri punti di vista. Volete fare l'università è veramente una cosa da fare. Però magari ne parleremo in un altro video dell'Erasmus perché oggi si parla di vivere e lavorare all'estero. Una cosa che accomuna tutte le persone che decidono di trasferirsi all'estero è che a prescindere dal paese che si sceglie, la prima cosa di cui vi renderete conto nel momento in cui metterete i piedi in un paese straniero è che sarete soli. All'inizio sarete completamente soli. Non ci saranno i vostri genitori, non ci saranno i vostri amici. Quindi le persone a cui volete bene non ci sono fisicamente. Ciò significa che dovrete trovare un modo per risolvere i problemi che vi si pongono davanti. Nessuno ti spiega come funzionano le cose ma sta a te chiedere e informarti su come ci si muove insomma. La prima difficoltà che probabilmente incontrerete sarà quella di trovare casa. Io a Londra ho cambiato 5 case ed è stato molto molto stressante. Doverete fare i conti con, almeno per Londra, una concorrenza altissima dei prezzi alle stelle che non giustificano la qualità delle stanze in cui andrete. Doverete fare delle interview magari con i conquilini per, diciamo, vedere se siete una persona affidabile. E questo può mettere veramente alla prova. In questi giorni parlavo con i miei amici e ho chiesto quale fosse per loro la difficoltà più grande di vivere all'estero. Tanti mi hanno risposto la nostalgia di casa. Cioè, a chi gli manca la famiglia, a chi gli manca gli amici e a chi ha lasciato una relazione sentimentale per trasferirsi. Con la famiglia diventa difficile riuscire magari a comunicare le emozioni, a raccontare la giornata perché, diciamo, ci viene tra volte dagli impegni quotidiani la stessa cosa con gli amici. Se non c'è uno sforzo sia da parte vostra che dai vostri amici diventa veramente difficile mantenere lo stesso rapporto di prima. non sto dicendo che non sarete più amici, però il rapporto cambierà completamente. Per quanto riguarda invece la situazione sentimentale, trasferirsi all'estero e iniziare una relazione a distanza senza termini della distanza diventa veramente difficile fare piani e capire dove si potrà andare con quelle relazioni. Quindi dovrete dare per scontato che il vostro rapporto cambierà sin dal primo giorno perché non sarete più lì fisicamente. Adesso cominciano le sfide di tutti i giorni, cioè la questione del lavoro. Il lavoro incide tantissimo sul vostro benessere. Ho provato sulla mia pelle che avere un lavoro che ti gratifica fa andare via il 90% delle preoccupazioni. Io sono venuto a Londra per motivi lavorativi. Ho cambiato quattro lavori. A tratti, quando le cose andavano male, ho messo anche in discussione tutto quello che avevo fatto prima. A un certo punto ho pensato di mollare tutto perché, diciamo, mi ero trasferito a Londra per lavoro. Quando le cose andavano male ho pensato che non avesse senso rimanere qui se anche il lavoro andava male. Quindi se non trovate un lavoro che vi gratifica, non sto parlando di soldi, ma sto parlando di una gratifica mentale, cioè che fate una cosa di cui vi svegliate la mattina e non vi pesa andare a lavoro, fidatevi che quello influirà tantissimo sulla vostra salute mentale. Adesso parliamo delle amicizie. Non è per tutti riuscire a vivere all'estero e a farsi delle amicizie straniere. Tante persone vanno all'estero e rimangono con gli italiani. Perché parlare sempre una lingua straniera è faticoso. Poi per fare amicizia con persone che non sono italiane dobbiamo aprirci e capire che ci saranno sicuramente delle differenze culturali e essere in grado di accettarle se volete far funzionare quei rapporti. Una cosa molto difficile, anche e soprattutto all'inizio, è capire la burocrazia. Quindi, siamo in un paese diverso, dobbiamo pensare da soli a come pagare le tasse, a iscriversi all'aereo, a fare un'assicurazione sanitaria, oppure iscriversi dal dottore. Sono tutte cose che permetteranno sicuramente alla prova e quindi se le vivete male possono creare problemi e confusioni. Vivere all'estero, secondo me, è un modo per scoprire voi stessi, capire cosa vi piace, capire di cosa avete realmente bisogno e scoprire, diciamo, fino a che punto il vostro carattere si può spingere, che cosa potete sopportare e cosa no. Un modo per creare delle opportunità di cui magari non immaginavate neanche l'esistenza. Ovviamente ogni avventura, ogni esperienza è diversa. Ho dovuto crearmi un gruppo di amici nuovi, ho dovuto affrontare la vita a Londra da solo, ho dovuto cambiare case, ho dovuto cambiare lavori. È stato sicuramente un'avventura non per tutti, ecco. Però se ci ripenso è stato anche un percorso che mi ha fatto crescere forse cento volte più velocemente rispetto a se fossi rimasto in Italia, ecco. Quindi sono veramente fiero del percorso che ho fatto. Però magari ne parliamo in un altro video. Se siete rimasti fino a qui vi ringrazio veramente tanto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, quali sono oggi le sfide più grandi che affrontate o quali sono state. Oppure fatemi sapere se magari vorreste trasferirvi all'estero però c'è qualcosa che vi frena. Grazie e ci vediamo al prossimo video. Grazie.